Il gruppo Locri guidati dal capitano Alfredo Iannace con il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri diretta dal dottor Giuseppe Casciaro hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del locale tribunale che dispone il sequestro preventivo di denaro, beni e crediti fiscali per un valore di circa 1,5 milioni di euro. L'operazione, condotta dalle fiamme gialle del gruppo Locri, è scaturita da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un soggetto economico avente sede nella Locride. Allo stato delle indagini e fatte salve successive valutazioni in merito all'effettivo e definitivo accertamento della responsabilità, i proventi illeciti oggetto di recupero a tassazione sono riconducibili a crediti di imposta fittizi frutto di un sistema di frode realizzato nell'ambito del cosiddetto bonus edilizio. Nello specifico, l'amministratore della società verificata avrebbe fittiziamente prodotto crediti di imposta relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, in realtà mai eseguiti, cedendola alla società dallo stesso amministrato. Successivamente la società sarebbe stata ceduta ad un altro soggetto di origine calabrese, residente al nord, che avrebbe trasferito i predetti crediti di imposta ad un'altra impresa della stessa area geografica. Quest'ultima le avrebbe poi utilizzate a proprio vantaggio in compensazione del proprio debito d'imposta. A seguito degli approfondimenti di indagine sono state denunciate due persone per reati di truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, eseguendo conseguentemente il sequestro preventivo e per equivalente disposto al giudice delle indagini preliminare del Tribunale di Locri di circa 1,5 milioni di euro, consistenti in un milione di euro di crediti di imposta, ancora giocenti nei cassetti fiscali della società. 500 mila euro tra disponibilità finanziaria, quote sociali e beni, in particolare 5 fabbricati, 5 terreni, quote societari detenute in due società di capitali e 5 auto, nei confronti di soggetti economici e delle persone fisiche indagate. L'attività costituisce una chiara testimonianza del costante impegno profuso dalla Procura della Repubblica di Locri e dal gruppo della Guardia di Finanza di Locri nel contrasto alle più articolate forme di frode e ai fenomeni illeciti perpetrati ai danni del bilancio dello Stato, al fine di garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate per sostenere famiglie e imprese.